Allora, siamo con Allan, un attimo di riposo prima di continuare l'allenamento. Tu non sei stato tra quelli che hanno giocato a Connat, però ci inquadri ugualmente questa settimana di allenamenti e questa partita a Dublino. Sì, certamente abbiamo avuto due settimane di pausa, diciamo. Ci siamo sempre andati molto duro, col focus sicuramente su L'Enster. È una partita che l'anno scorso abbiamo vinto e puntiamo a farlo anche quest'anno. I ragazzi sembrano molto confidenti, tutti quanti hanno fame di far bene su a Dublino e sarà sicuramente una sfida molto interessante. A Dublino poi ti lega che lo scorso anno fosti man of the match, uomo del match e giocaste una gran partita. Sì, provo sempre a dare meglio per la squadra, qualunque sia l'aspetto. Sì, era una bella serata l'anno scorso, speriamo di fare anche un'altra adesso. Come ho detto prima, i ragazzi sono veramente entusiasti di questa settimana, sono tre partite molto importanti che ci aspettano. Quindi sarà un mese molto molto intenso, però siamo contenti di essere in questo posto adesso. Hai anticipato tu, in effetti sarà un mese importantissimo. Arrivano, poi ci saranno altre due partite con cui andare a raccogliere punti. Sì, esatto, ogni punto è fondamentale adesso. Siamo veramente lì lì, sarà un mese molto molto duro, però è bello essere in questo posto adesso. L'anno scorso eravamo lì lì per la Champions, adesso siamo lì lì per i playoff. Quindi sì, è bellissimo, sono pressioni che ogni giocatore vuole avere.